Sono andato in vacanza senza spendere un soldo. Come? Beh, tre alternative ai caro hotel alle quali difficilmente avrete pensato. 1. Mollo tutto e faccio il ragazzo alla pari. Mentre c'è qualcuno che parte, una casa magari dall'altro capo del mondo rimane vuota e sola. E quindi ecco che chi ha bisogno di lavoretti mentre è in vacanza offre il proprio alloggio senza spese. A facilitare l'incontro tra domanda e offerta ci pensano delle piattaforme online specializzate, dove le persone offrono lavori domestici come tenere in ordine la casa o annaffiere le piante. Una sorta di ragazzo alla pari. 2. Un grande must. Dog e cat sitting. Non è sempre facile trovare un fidato compagno per i tuoi animali domestici mentre sei in vacanza. Ma anche in questo caso ci sono siti online specializzati che offrono alloggi in tutto il mondo in cambio della cura di cane e gatto. Padroni, animali, dog e cat sitter tutti più felici. 3. Scambi culturali e vacanze lavoro. Giardinaggio, babysitting, ma anche la realizzazione di opere di beneficenza. Ci sono addirittura aziende agricole che in cambio di ospitalità richiedono alcune ore da svolgere in attività manuali, educative e culturali. Più di 50.000 opportunità promette questo sito. Un viaggiatore può restituire qualcosa alle comunità e ai luoghi che visita.